Musica Musica Vi ringraziamo per essere qui con noi oggi nel festeggiare insieme questo giorno stupendo Proprio per questo vorremmo ora raccontarvi una storia la nostra Qualcuno di voi si è chiesto come una ragazza di Torino e un ragazzo di un piccolo paese del Varesotto si siano potuti incontrare per arrivare a questo giorno? Siamo qui per raccontarvelo Vi invitiamo ora ad osservare il cielo e le stelle proprio come abbiamo fatto noi con grande passione ed entusiasmo No Grazie a tutti Grazie a tutti